Inizia il secondo tempo tra New Romero United e capolista The Football, ci prova qui Angel, che capitano e che tiro a giro per i fotografi, si lancia balsamo, si è gasato, si è gasato, grossa elarità in campo, il punteggio è 4 a 1 per The Football, tripletta di Gianni Torino, è la rete di Finizio giusto? 4 a 1, punteggio praticamente ormai acquisito, qui Puka va in avanti con le mani, Basile di testa, Finizio la mette bene giù, che giocata di Finizio, lo gasiamo un po', la gioca per Giovanni Torino, ancora Finizio, grande Finizio, Carmine va ancora via, Angel, un muro, gioca da terra, non può il gioco da terra, intanto qui io segnalerei l'ottimo intervento ancora di capitano Angel Chiusolo, l'ultimo a mollare, attenzione Ursuolo, la gancia in due tempi, si distrugge, faccia al muro, Torino che il numero va via, ancora Gianni Torino, Deca ancora per Torino, attenzione, 3 contro 1, la palla dentro per Femia, Manfellotto fa buona guardia, fa ripartire Grimaldi, l'autore del gol dei suoi, della bandiera, ancora Grimaldi, fermato da Torino, una furia, in mezzo a due, viene fermato, Basile esce, palla al piede, fasi confusi, attenzione, palla dentro, Balsamo rischia qualcosina, Manfellotto lo ferma in fallo laterale, capitano d'Angelo, è pronto a rimettere in gioco il pallone, anzi se lo porta a casa, inquadraiamo anche qui Luca Torino che oggi per scelta tecnica è in panchina, turnover in settimana, c'è la Champions, attenzione adesso a Ursuolo, passaggio per De Vincenzo, buono il dribbling De Vincenzo, può calciare con il destro, prova il passaggio, ancora De Vincenzo, D'Angelo lo ferma, che fasi confuse, De Vincenzo, buona la rispinta di Balsamo, che nonostante la nottata di poco insonne, alcol e fumo per lui, fa una buona parata, D'Angelo la finta qui, disorienta tutti, Balsamo per Basile, buona per ancora Finizio, che prova a girarsi, poi scarica su D'Angelo, su Torino, che è tunnel di Torino, mamma mia che numero, li dribbla tutti, poi serve Femia, può calciare di destro, Pucca, tranquillo, la blocca, Corduas, scusami, l'ho confuso con Pucca, chiedo scusa in telecronaca, e l'ho confuso ragazzi, scusatemi, Balsamo, seguiamo l'ultima azione, Basile, partono sempre da lui le azioni dei football, Carmine Finizio ancora, punta Manfellotto, Finizio con l'esterno, poi sfortunato nel rimpallo, seguiamo Corduas, l'ultimissima la mette giù, per il rinvio, perde un po' di tempo, osserva il piazzamento, lunghissimo, cercare Urciuolo, direttamente tra le braccia di Balsamo, 4-1 De Football, chiudiamo qui il nostro collegamento, De Vincenzo, attenzione, c'è Balsamo, 4-1, chiudiamo qui. Eccoci qua, siamo con i De Football, c'è anche qualcuno seduto qua, li vediamo, 4-1 contro New World United, 5-1, Giano è inquadrato, 5-1, scusatemi, Giovanni Torino è il migliore in campo, io vi risponderei, vi farei subito una domanda, gli avversari si lamentavano un po' perché voi in campo giocavate molto, diciamo, alla leggeta, capitano, cosa hai da dire tu? Ma perché pure loro, alla fine non ci sono impegnati, si vedeva proprio, potevano giocare a fare male, però, sono partiti forse un po' sconfritti, la tecnica, la potenza, la cazzimma, lo chiamo Silva, tu sai? Anche se che andate, si chiamano solo pallone, non fanno gol, sono attancato, c'è un tempo. Vabbè, ma lui fa tanto movimento generoso per la squadra, no? Vabbè, lui fa tanto movimento, oggi ho guardato più poco, specialmente a Giovanni non lo ho guardato più poco, un poco, ufficiale, in questo istante, Gianni Torino acquistato per la finale di calciotto di Serie A, martedì ore 22, contro i Damm, con la mia squadra non puoi mancare, ingaggio in diretta Gianni Torino al mio giocatore di Serie B, di Serie C, scusatemi, va bene ragazzi, che cosa dire, più, avete fatto una bella partita? RESTATE! Ma non facevano anche io! Chiarissimo, va bene ragazzi, ammazzatevi, buona domenica, ciao, è lontano, vai!